Bici, chi sei? Cosa fate? Sono Fabio di Greenpeace, gruppo locale di Torino. Abbiamo deciso oggi di celebrare il funerale del servizio pubblico di bici condiviso Tobike perché il 12 febbraio ha ufficialmente chiuso. La versione ufficiale, che ci crediamo per carità, è che è stato chiuso per colpa dei vandali nonostante l'elevato numero di iscritti e di utilizzatori. Diciamo che se il Comune avesse voluto veramente sostenere questo servizio non sarebbe finito così. Quindi noi con questa bara che abbiamo creato, siamo vestiti di nero, funerale e celebraremo tra poco il funerale davanti alla stazione Adriano. Vogliamo chiedere un incontro privato con l'assessore Apoglietta e chiedere spiegazioni di come mai non si è sostenuto il servizio e chiedere di ripristinarlo. Guardo le azioni vandaliche che effettivamente ci sono state.